Musica 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 Allora ma come va? Sei emozionata? Emozionatissima e quoi tocca Musica No le ragazze pensate che l'ho mandata in giú ad aprile Vero? Che l'ho guardato a questo spettacolo? Nove vele Ave. La mia più cara amica Allora, stiamo aprendo il stipario per far vedere la scenografia che abbiamo creato Io, Olivia, l'insegnante Paloma, ci ha aiutato anche Giorgia Ci abbiamo messo tre orette Abbiamo accumulato tutte le cose che avevamo nelle nostre soffitte qua Qualsiasi cosa, ci sono anche degli easter eggs dello spettacolo dell'anno scorso Tutto, tutti i nostri unicorni Io sono il risinato Il rito di tutti gli attori rimane ad andare in scena. Sei più emozionata tu o più emozionata io o più emozionata papà? Senti ma come si chiama questo spettacolo? Ce l'ha un nome? È lunghissimo. Sperare una strampalata soffita. Che bello ragazzi. Sperare una strampalata. E da quant'è che ballate? Io da tre e lei da due. E lei da uno. E soprattutto a me mi piace un sacco il tutu perché è lilla. E poi ce l'abbiamo tutti lilla che già siamo tutte molto belle. Anche io. Oggi dobbiamo fare un grande dono al pubblico. Quelle che già hanno fatto danza lo sanno che la danza è magica. Veramente. Nel vero senso della parola. La parola. Questa ma è una strampalata. Un'unica anima. Un, due, tre, in bocca al lupo! Un, due, tre, in bocca al polo, un, due, tre, in bocca al soli. It was meant to be that way Though I don't know why I don't care what people say Rock and roll is here to stay We don't care what people say Rock and roll is here to stay Rock and roll will always be out